Io credo che dobbiamo creare opportunità, non assistenzialismo. Creare opportunità per i giovani, creare opportunità per chi oggi non le trova ma può costruirsi un futuro nei nostri territori. Questo non basta l'istituzione, non basta il singolo privato, non basta l'impresa, serve la squadra. Penso che le istituzioni debbano mettersi a disposizione del mondo produttivo, del mondo sociale, del mondo formativo e riuscire a creare il sistema che possa remare in questa direzione. Questo penso che sia stato anche la soluzione che ci ha portato fuori dalla pandemia. Nei momenti di emergenza l'Italia è molto brava a trovare elementi di unità e uscire dalle difficoltà. Dobbiamo riuscire a trovare anche questa unità, questo fare sistema anche nell'ordinarietà.